Ben trovati amici del Centrometrio Italiano. Parentesi più autunnale che invernale in questo inizio di settimana, ma la situazione è destinata a cambiare nei prossimi giorni. Un primo peggioramento è atteso già mercoledì 18 dicembre, con un minimo in risalita dall'Algeria che porterà a maltempo intenso ad iniziare dalla Sardegna e poi soprattutto sul versante Tirrenico. I principali modelli propongono poi un nuovo affondo a partire da venerdì 20, con un secondo minimo informazione, questa volta sul Mar Ligure. Nonostante sia troppo presto per entrare nei dettagli, questa perturbazione dovrebbe portare sull'Italia maltempo anche intenso insieme ad un abbassamento delle temperature. Non si escludono temporali e locali nubifragia ad iniziare dal nord, in spostamento poi verso il centro-sud con l'evoluzione della perturbazione nel weekend. La neve è attesa invece soprattutto sulle montagne, in particolare alpine, con accumuli che potrebbero essere a tratti abbondanti ma a quote medio-alte. Vi invitiamo comunque a seguire tutti i prossimi aggiornamenti su questo possibile peggioramento sia sul nostro sito che sul nostro canale YouTube. Un saluto da parte del Centrometro Italiano.